Sono veramente contento della prestazione di tutta la squadra, sono veramente contento che ho fatto la mia prima partita con il mistero. Ecco, questa prima partita che è arrivata dopo più di un mese, dall'inizio del campionato, è un tempo questo che ti è servito a crescere, a capire l'allenatore, a farti capire anche? Sicuramente sì, sto cercando ogni giorno in allenamento di capire sempre di più quello che vuole il mistero, ci sta facendo lavorare tanto, quindi mi serve ancora un po' per capire quello che vuole il mistero. Dove devi migliorare ancora secondo te? Secondo me ancora in fase difensiva, sto cercando di migliorare ogni giorno in allenamento, ci sto lavorando. Sei contento dell'assista El Sharawi? Sì, sì, sono molto contento. Quando l'hai pensato? Raccontacelo. Quando mi sono girato subito l'ho visto, quindi l'ho messo lì. Grazie. 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 Grazie.